Siamo con Antonio Ruffo, sulle tribune tanta sofferenza, primo tempo perfetto 1-0, poi due gol dell'Albidona, davvero una bella giornata di sport e poi anche il risultato finale che vi ha fatto sorridere. Sì, il primo tempo nostro è stato un bel primo tempo, poi abbiamo avuto quei 15 minuti di blackout all'inizio del secondo tempo dove abbiamo preso quei due gol ancora una volta per errori nostri, disattenzione e poi dopo siamo andati a riprenderci questa partita perché siamo stati 15 giorni, 20 giorni secondi in classifica e ci ha fatto veramente male, abbiamo sofferto tanto, quindi siamo ritornati finalmente in vetta perché ti ripeto sono stati 20 giorni bruttissimi. Allora, l'entusiasmo del pubblico, sembrava quasi spingere la squadra, è stata davvero una cosa molto bella questa perché il due pari con i gol di Bianchi ma tutti avevano voglia di correre, anche le persone in tribuna, credo che questo sia anche il bello del calcio. Sì, oggi c'era una bella connessione di pubblico, ci hanno incitato tutti quanti, c'erano parecchi sostenitori, è stata una bella giornata di sport. Piedi per terra anche se si è primi con una giornata in meno rispetto agli altri. Sì, siamo con i piedi per terra perché ancora ci sono tantissime gare, ancora deve finire il girone di andata, quindi ci tuffiamo per la prossima gara che sarà col Temesen, quindi è un'altra gara difficile.